La Fudge Production Mi hai fatto onore bambino, sapete? Allora Quindi Ecco Allora, io ho già fatto Il Tutorial Allora Posso migliorare una carta O miglioriamo questo Allora 50 di danno 2 secondi Aria piccola Oppure 0,5 di stun Ma Per più gente Si Ok Continuiamo Ok Qual è il mio obiettivo Si Devo battere Gli eroi Battaglia Andiamo di qua Non capisco Per perché Questa cosa Del tavolo Non lo Ancora Capita Capita Que è la no 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 oh 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 mamma add more soldato e stop eeeh tanti saluti ciao abbiamo vinto tutto mmm rafter card mmm piuttosto mmm uh questo è buono ah non posso tornare indietro mmm allora adesso cioè posso ah portal e al port posso mi diorare ah armature rompe l'armatura nemica e lo storviccio pure ok si fa il dato brutale brutale ah entra in battaglia milizia allora allora qua la mappa che giochi è sempre diversa che non ass che 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 l'ultimo solidarieto brutale, ottimo ultimo enemy l'ultimo abbiamo vinto draft a card gladiatore squad in hand 50% ottimo sconosciuto andiamo qua ah c'è un quanti anni mi ho? no teniamo ce l'è con per scosta allora siamo a 7 minuti allora in pratica questo gioco deriva da dal primo necronator che è un gioco flash che con un po' di ingegno si possono ancora giocare ok non 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 Grazie a tutti. Oh, questo è stato un pochino più difficile. Però... Raffaccarlo. Una squadra ottiene più uno di 55 animi. Allora, posso riposare. Recuperiamo un po' di vita. Battaglia. Ah, il boss. Ok, facciamo questo boss e poi andiamo via. Facciamo fuori, prima qua. No. Oh. Hai. Sì 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 Oh Sì 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 Penso Lo vedremo la prossima volta Ciao